Zombie Apocalypse Terra Amara Anticipazioni di sabato 30 dicembre 2023 Lutfi e parla con Fekeli, e chiede quanto manca per terminare la ristrutturazione della casa bruciata, perché sta pensando di ingrandire la camera di Kerem Ali, che sta crescendo. Fekeli le risponde che la venderà, poiché dopo la morte di Ilmas, Mujgan, e Unkar, per lui è diventata una prigione, colma di ricordi tristi. Preferisce trasferirsi altrove, se lei è d'accordo. Lutfi e subito risponde di sì, e Fekeli la ringrazia per l'amicizia che gli dimostra. Fikret, appresa la notizia del ritrovamento di Umit dentro la macchina in fondo al burrone, vi si reca insieme a Cetin. Qui, parla con il procuratore, che afferma che si tratta di un incidente, e che la morte risale ad almeno 10 giorni prima. Intanto, Akan è nell'officina di Kadir, e scopre che ha una ricetrasmittente collegata con quella della polizia, e qualcuno gli informa che il cadavere di Umit è stato ritrovato. Kadir chiede ad Akan quando useranno la pistola come prova contro Zuleya, e Akan risponde che lo faranno al momento opportuno. Kadir gli assicura che la tiene al sicuro dentro la cassaforte, e poi gli domanda perché non si presenta nell'azienda di Demir come nuovo proprietario del 25% delle azioni. Akan risponde che vuole farli vivere nell'ansia prima di fare il suo ingresso. Nel frattempo, in azienda, Betul sta controllando gli atti di proprietà degli Yaman, distribuiti tra Demir, Zuleya, Adnan, e Leila. Commenta che Demir ha fatto un buon lavoro con i soldi che ha sottratto loro, ma lei sa come riappropriarsi di tutto. La raggiunge Erjan, portandole tutti i bilanci, e nota che lei ha davanti gli atti di proprietà degli Yaman. Quando esce, Erjan chiede a Sabia, la segretaria di Demir, cosa stia facendo Betul con quegli atti, e con i dati personali di Demir. Lei risponde di non saperlo, e Erjan le dice che devono stare molto attenti, perché quella donna può causare grossi guai. Sabia risponde che purtroppo è vero, ma loro sono impotenti. Intanto, Betul, rivolgendosi alla foto di Adnan, annuncia che presto quella foto sarà rimossa. Zuleya riceve una telefonata da Fikret, il quale la informa della morte di Umit, precipitata da un burrone con la macchina, e le dice di stare tranquilla. Zuleya condivide la notizia con Lutfie, che la vede scossa e piena di sensi di colpa. Lutfie le ricorda il male che Umit ha causato alla sua famiglia, e le assicura che non è colpa sua se è precipitata dal burrone. Zuleya cena con Lutfie e le immancabili Sherman e Betul. Proprio Betul, mostra un profondo affetto e riconoscenza nei confronti di Zuleya. Improvvisamente arriva Gaffur, portando una notizia scioccante. Comunica che Umit è morta, vittima di un tragico incidente lungo la strada per Mersin. La sua auto è precipitata in un burrone, all'altezza di una curva pericolosa. Gaffur aggiunge che il corpo è irriconoscibile, e che i documenti che Umit aveva con sé hanno facilitato il riconoscimento. Betul, con grande freddezza, commenta che Umit ha ottenuto ciò che meritava. Zuleya si allontana con Lutfie, mentre Sherman esprime il suo disappunto per il fatto che Umit non sia più utile per loro. Betul risponde affermando che, in questo modo, Zuleya si è liberata di un problema, ed entrambe sono molto deluse. Nel frattempo, Fekeli e Fikret sono dal procuratore, cercando di capire come sia avvenuto l'incidente di Umit. Il procuratore spiega che, la presenza di una curva molto pericolosa sulla strada, può creare difficoltà per chi non conosce il percorso. Fikret chiede informazioni sui parenti di Umit, e il procuratore risponde che il padre è impossibilitato a prelevare il corpo, perché è ricoverato da mesi in ospedale a causa di una paresi. Fikret propone di prendersi carico della situazione, e il procuratore ha consente, auspicando una degna sepoltura per la defunta. Fekeli, desideroso di avere notizie sulla ricerca di Demir, viene deluso quando il procuratore conferma che non ci sono novità. Fekeli dice che sa che il procuratore sia convinto che Demir sia fuggito, ma lo prega di prendere in considerazione la faida che dura da dieci anni tra Demir e Akangu Musoglu. Il giorno successivo si tiene il funerale di Umit, con la partecipazione di poche persone, tra cui, Fikret, Fekeli, Lutfie, Zuleya, e alcuni colleghi medici. Durante la cerimonia, Fikret confida a Fekeli che, nonostante Umit abbia causato dolore a Zuleya e Demir, era una donna che aveva sofferto per la mancanza della madre. Amava il suo lavoro, e aveva sognato di aprire una clinica ad Hamburgo. Fikret si assume la colpa per averla coinvolta nella vendetta contro gli Yaman, sottolineando che la morte di Umit è, in parte, responsabilità sua. Fekeli risponde saggiamente che il destino è ineluttabile, e che non è possibile cambiare ciò che è già scritto nel libro della vita. Intanto, Lutfie entra in pasticceria, dove tre donne discutono di Umit, della sua gravidanza da Demir, e della partecipazione di Zuleya al funerale. Emergono anche pettegolezzi sul fatto che Zuleya è rimasta sola, e possa attirare l'attenzione di molti uomini. Lutfie, ascoltando la conversazione, cerca di mantenere la calma, ma alla fine viene coinvolta quando le chiedono se pensa che Fikret e Zuleya siano una bella coppia. Lutfie, che fino a quel momento aveva mantenuto la calma di fronte a quelle insinuazioni, afferra la tovaglia del tavolo carico di piatti, e la scaraventa a terra con rabbia. Poi, rivolgendosi alle donne, afferma con determinazione che non devono permettersi di infrangere la dignità e il dolore delle persone, soprattutto di Zuleya. Quindi, paga sia il proprio ordine che i danni causati, e prima di allontanarsi, augura alle donne di strozzarsi con il loro tè e i dolci, e di astenersi dallo spettegolare in futuro. Lutfie, visibilmente agitata, raggiunge Fecheli e gli confida la sua rabbia. Racconta dei pettegolezzi che ha sentito su Zuleya, e soprattutto, delle insinuazioni riguardanti una presunta relazione tra lei e Fikret. Fecheli, sconvolto da tanta malvagità, chiede chi possano essere queste persone, e si domanda come sia possibile tanto cinismo, senza considerare il legame fraterno tra Demir e Fikret. Lutfie gli risponde che le chiacchiere si diffondono ovunque nel paese, e insiste sul fatto che è necessario porre fine a questi pettegolezzi distruttivi, perché c'è chi spera solo di danneggiare Zuleya, e spera che lei non venga a conoscenza di tutto ciò. Propone quindi di trovare al più presto una casa dove poter vivere. Fecheli ha consente, concordando sulla necessità di agire tempestivamente. Mentre Zuleya è in giardino in compagnia di Lutfie, arriva la polizia. Zuleya chiede immediatamente se hanno trovato Demir. Il comandante comunica, però, che hanno arrestato il rapitore di Adnan, ma che non si tratta di Jumali, bensì di Durmush. Sanye, confusa, chiede se è il padre di Uzum. Il comandante, tuttavia, risponde negativamente, rivelando che il vero padre di Uzum è deceduto in carcere sette mesi prima. La notizia lascia tutti sconvolti, e Uzum, sentendo ciò, si allontana visibilmente scossa. Sanye, indignata, commenta che quell'uomo ha fatto del male soprattutto alla bambina. Poco dopo, Gafur trova Uzum in lacrime, e lei gli racconta dell'annuncio della polizia, che ha detto che Jumali non è suo padre, poiché il vero genitore è morto in carcere. Gafur, sconcertato, ammette di essere stato ingannato, la abbraccia, e cullandola dolcemente, le assicura che lui è suo padre, e non la lascerà mai. Successivamente, Sanye si presenta fuori dalla caserma della polizia, quando Jumali, in manette, esce tra due poliziotti. Gli si avvicina, gli sputa in faccia, dicendogli di vergognarsi per aver giocato con i sentimenti di un'orfana, e comincia poi a picchiarlo. I poliziotti la lasciano fare, poi, il comandante la conduce nel suo ufficio. Lei gli chiede come sia possibile infliggere tanto dolore a una bambina che si era affezionata. Poi, gli domanda del vero padre di Uzum, e lui le spiega che si è ammalato in prigione, morendo quando è stato portato in ospedale. Sanye gli chiede dove è sepolto, e lui risponde che è sepolto a malattia. In azienda, Betul chiede a Erjan dei documenti riservati, e lui, sorpreso, le chiede il motivo. Lei si altera e fa una spuriata, dicendogli di obbedire, sottolineando che Demir le ha affidato il comando, e non deve neanche osare discutere i suoi ordini. Quando Erjan esce, Betul commenta che presto lo licenzierà. Poco dopo, la raggiunge Fikret. Betul lo accoglie con un gran sorriso e tanta cordialità. Lui la ringrazia ancora per aver salvato Kerem Ali, e le dona un cofanetto contenente una penna elegante, suggerendole di usarla per firmare i documenti fino al ritorno di Demir. Betul rivela di pregare ogni giorno per il ritorno di Demir, e di sentirsi investita di una grande responsabilità, malgrado la sua esperienza nella gestione aziendale. Tuttavia, Aciukurova, teme di non essere rispettata in quanto giovane donna. Fikret la rassicura, dichiarandosi a sua disposizione, così come suo zio. Betul, inoltre, menziona le molte proprietà di Demir che deve visitare, senza avere idea della loro ubicazione. Fikret si offre di accompagnarla, e Betul chiede se possono iniziare immediatamente. Fikret accetta, dicendo di essere sempre in debito con lei. Dopo una visita a Lunar Anceto, Fikret la invita a pranzo in un bel ristorante. Durante il pranzo, parlano amabilmente, e Betul confessa di sentirsi molto sola, ringraziandolo per la sua vicinanza. Poi, gli chiede della sua vita in Germania, e del motivo per cui è tornato a Aciukurova. Fikret rivela di essere tornato per vendicarsi di Demir, ma che, inaspettatamente, sono diventati fratelli. Adesso, il suo unico desiderio è riabbracciare Demir. Betul, affermando che Demir è un uomo difficile ma dal cuore buono, gli racconta di essere grata a lui, perché ha potuto studiare a Parigi grazie al suo sostegno. Fikret poi, dice che essendo lei la nipote di Adnan, loro due sono cugini. In altro contesto, Akan si trova dal barbiere del paese, che gli chiede da dove viene. Akan risponde che è disarta. E quando paga il barbiere, questi rifiuta, sostenendo che non è necessario, poiché ha compiuto una buona azione per la signora Zuleya. Akan, però, lascia ugualmente dei soldi. Quando Akan esce, il barbiere si accorge di aver ricevuto troppi soldi, e il suo assistente gli chiede chi fosse quell'uomo. Poco dopo, Akan incontra Zuleya, che lo riconosce, e lo ringrazia per l'aiuto. Iniziano a conversare, quando Kadir suona il clacson per attirare l'attenzione, chiedendosi cosa stia facendo Akan con Zuleya. Akan, notandolo lo saluta, e si affretta ad andarsene per raggiungerlo. Kadir gli dice che Zuleya è rimasta impressionata dal suo aiuto, e che sarà facile manipolarla. La sera alla villa, Zuleya è sempre più triste e tormentata per l'incertezza di non sapere dove si trovi Demir. La raggiunge Fikret, e vedendola in uno stato d'animo così cupo, le suggerisce di parlarne con lui. Zuleya, piangendo, ammette di essere tormentata, sperando che Demir torni, ma al contempo avverte un brutto presentimento. Fikret la rassicura, dicendole che Demir tornerà, e aggiungendo che lui, Fekeli, e la zia, non la lasceranno mai sola. La esorta a non perdere la speranza, poiché stanno cercando Demir ovunque e lo troveranno. Poi, la invita ad andare in giardino con lui, dove Lutfi e Fekeli stanno parlando dei pettegolezzi su di loro. Zuleya li invita a cena, ma Fekeli porta via Fikret, dicendogli che devono recarsi urgentemente in azienda. Quella stessa sera, Betul torna a casa, dichiarando a Shermin la sua felicità per la splendida giornata trascorsa. Le mostra il regalo di Fikret, una penna con la punta d'oro, raccontandole che le è stata donata in segno di gratitudine per aver salvato Kerem Ali, e che Fikret le ha assicurato riconoscenza a vita. Shermin dice che è evidente che Fikret piaccia molto a Betul. Quest'ultima racconta di avergli confessato di sentirsi sola e soprafatta dalle responsabilità. E lui l'ha accompagnata a esplorare le proprietà di Demir. Successivamente, hanno pranzato insieme, e Fikret le ha assicurato che sarà sempre al suo fianco. Shermin le consiglia di assicurarsi che nulla ostacoli il suo cammino, mentre si appropria dell'azienda. Poi, curiosa, le chiede cosa succederà se Demir dovesse tornare. Betul, con sicurezza, risponde che ciò non avverrà, perché chi l'ha rapito lo ha già ucciso. Shermin obietta che Demir potrebbe essere scappato, ma Betul replica che in tal caso avrebbe chiamato Zuleia per tranquillizzarla. Poi la rassicura, dicendole di non preoccuparsi, poiché presto le loro mani saranno sulle ricchezze di Demir e Fekeli, invitandola a pensare a come spendere tutte quelle fortune. Shermin, sorridendo, le dice che l'ha resa felice. Fikret è in macchina con Fekeli, e gli chiede il motivo del loro viaggio in azienda. Fekeli spiega che stanno andando verso la casa estiva, per evitare che Zuleia riceva ulteriori offese. Fikret chiede il motivo, e Fekeli rivela che, mentre loro sono alla villa per aiutare Zuleia, delle persone malintenzionate stanno diffondendo insinuazioni vergognose. Fikret chiede se riguardano lui e Zuleia, e Fekeli risponde positivamente. Fikret obietta che Zuleia è la moglie di suo fratello, ma Fekeli sostiene che non sono cresciuti insieme, e che fino a poco tempo prima si odiavano. Perciò, la gente parla male, e devono evitare di dargliene motivo, poiché presto vivranno nella casa estiva. Fikret consente, concordando con lui. Il giorno seguente, giunge alla villa Sadi, e Zuleia lo abbraccia ringraziandolo. Lui le chiede come sta, e Zuleia confida di rimanere in piedi solo per i bambini. Sadi le rivela che, chi ha comprato le azioni, non è Akangu Musoglu, ma Mehmet Kara. Non riesce ancora a individuare chi sia, poiché ci sono molti uomini da fare con quel nome. Ma promette che lo scoprirà presto. Zuleia gli chiede poi se ha notizie di Demir. Sadi risponde che non risulta sia espatriato, e che non l'ha trovato né in ospedale né in obitorio. Pertanto, vivo o morto, Demir è ancora Akciukurova. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.